Il sottofondo che sentite è una musica che ho scelto per voi del gruppo Las Cicalas A gennaio 2018 speso 70 euro per comprare questo drone L'ho scelto dopo aver visto una recensione di Yakidale Alla fotocamera per fare foto e video, infatti adesso faccio un giro Foto e video, dimmi, è bruttissima perché la fotocamera è scarsissima Rispetto per esempio alla fotocamera del drone, il signor drone del mio amico Nuzio Ponomo Con cui abbiamo fatto delle riprese per il video sul Monte Albano Se volete vederle vi lascio il link qui sotto E non lo guido da tanto perché l'ho comprato e mi sono stancato subito da buon gemelli C'è vento Allora l'ho recuperato e la voglia di guidarlo mi è tornata perché ieri ha fatto il compleanno a mio nipote Le abbiamo regalato un drone Questo giocattolino noi l'abbiamo scelto verde ma ce ne sono anche altri colori Infatti vi lascio il link qui sotto se siete interessati all'acquisto Tuttavia fa il suo dovere Eccolo qui che sta volando E' piccolino A misura di bimbo Ci sono state delle tentate lesioni Da mio nipote Come in questo caso ma anche con gli adulti non va meglio perché mio fratello l'ho andato nella torta Ciao fratello Ok Eccoci qui ci solleviamo Siamo a circa 20-25 metri da terra Si vede l'immagine bella, nitida, fantastica Leggermente vomitevole Quindi non guardate questo video dopo aver pranzato Ce ne andiamo sulla terra del vicino Ecco Qui abbiamo già idea della previsione della catastrofe Scendiamo tra le albicocche Finché non incontreremo un ramo che ci farà precipitare al suolo Eccolo qua Questo è il momento preciso Lì mi vedo io che arrivo a recuperare il drone dopo qualche minuto di ricerca Espressione da Ma dai Va tutto bene E basta Allora E' troppo leggero quindi un minimo di vento se lo porta Proviamo di nuovo Andiamo a vedere Ciao Allora io le cose le faccio bene altrimenti non le faccio proprio E quindi durante le poche volte in cui l'ho usato L'ho fatto sbattere come si deve Infatti qui c'è una fascetta Non so se si vede Qui manca un gommino Un piedino Basta Per oggi forse l'esperimento può Terminare E' da qui E' da qui E' da qui E' da qui